Buonasera, bentornati a Domenica Sport Sera, la trasmissione che si occupa di sport a 360 gradi, sport di Siena e provincia, non solo perché oggi parliamo, anzi partiamo dal Giro d'Italia, apriamo la trasmissione quindi con questo evento che ha toccato anche il nostro territorio perché ricordiamolo martedì con l'arrivo a Montalcino, mercoledì invece con la partenza da Siena, noi siamo in compagnia di Vincenzo Albanese del team Eulocometa che saluto intanto e ringrazio per essere qua con noi in questi giorni intensissimi, buonasera. Buonasera, ciao a tutti e grazie per avermi invitato. Adesso prima di entrare nel vivo dell'intervista guardiamoci i servizi che abbiamo mandato in onda durante le nostre trasmissioni e anche durante le nostre edizioni locali del TG riguardanti proprio il Giro d'Italia che ha toccato questo territorio. Entusiasmo, emozione, sembrava di essere tornati alla normalità. Montalcino seppur blindata e con controlli serrati per rispettare le normi Covid ha colto con grande fermento l'arrivo della carovana rosa. A vincere l'undicesima tappa è stato lo svizzero Smith che ha battuto l'italiano Alessandro Covi in una volata a due. Alla premiazione il sindaco Franceschelli ha voluto ribadire quanto è stato importante questo evento per il territorio. C'è stato un lavoro di preparazione molto intenso, considerato che vengono percorsi nel nostro comune circa 70 di chilometri di cui 35 di strade bianche. Le richieste sono tante, abbiamo anche cercato un po' di spalmare il pubblico su tutto il territorio con tutte le attenzioni necessarie anche all'emergenza epidemiologica in atto. Una vetrina immensa, quella del Giro d'Italia, anche per un turismo del futuro. Sicuramente sì, un po' un momento in cui si spera che si possa ripartire, si possa ripartire con una situazione migliore, che questa fase gravissima ci lascia alle spalle un brutto ricordo, c'è bisogno di una ripartenza e speriamo che questa giornata sia un po' un inizio di primavera. Sentiamo veri protagonisti su questa terra perché facciamo comunque oggi strade di Eroica dove abbiamo recentemente anche tracciato i percorsi permanenti di Eroica Montalcino, quindi oggi è Giro, è festa del ciclismo e noi ci sentiamo veri protagonisti di questa tappa. ...Viva, c'è in Pina e Trasidica, voi non stanno brigando questa copia, non sarà più importante il piazzamento, non sarà più importante il guadagnare anche... Un parterre d'eccellenza, a vedere l'undicesima tappa del Giro d'Italia dalla fortezza di Montalcino, il presidente della regione Toscana Eugenio Gianni, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, il DG delle scotte Antonio Barretta e il presidente della Fondazione MPS Carlo Rossi. Si sono dati appuntamento di fronte ad un buon brunello e dei piatti della cucina locale per poi correre a vedere passare la carovana rosa da una visuale mozzafiato, un evento che rappresenta la ripartenza, ha detto con orgoglio Gianni. Questi sono i migliori vaccini, ieri ero col generale Figliolo, siamo venuti a Firenze e a Siena, ma onestamente per vincere il Covid non c'è niente di meglio che quello che la nostra cucina ci può offrire e al di là di queste battute, in questo ambiente spettacolare dove il Giro d'Italia trova un po' il riferimento alle sue origini, cioè attraverso lo sport, attraverso lo sport più popolare, la bicicletta, lo sport della fatica, ma anche dell'autenticità dei rapporti. Ecco che la tappa a Montalcino significa una voglia di ripresa, partendo dall'autenticità di luoghi straordinari, bellissimi, di grandi relazioni umane, ma di un'offerta, se vogliamo, paesistico, turistica, culturale, unica. Devo dire che con Silvio Franceschielli, il sindaco, abbiamo visto anche, ce lo proponevamo da giorni, lo stato dei lavori, la regione ha contribuito attraverso i progetti della Via Francigena, la fortezza di Montalcino con i lavori che venivano fatti sarà qualcosa di molto molto importante e bello. Il tutto per una ripartenza della Toscana, l'insegna del turismo, l'insegna della cultura. È evidente che quando si arriva con una volata in una città calorosa, ma anonima, come talvolta accade, è una cosa. Quando una persona si mette o alla televisione o viene qui direttamente e vede queste straordinarie immagini dei colli di Montalcino, dei vigneti e del paesaggio naturale che viene espresso, di una fortezza che ricorda come dal 1555 al 1557. per 4 anni in una fase delicatissima che fu la costituzione della Toscana moderna. Dopo la caduta di Siena, Montalcino fu in qualche modo la capitale del sud della Toscana. Insomma, ti rendi conto che ci sono delle emozioni e delle sensazioni che non possono che risvegliare quell'attrattività della Toscana che qui trova le sue punte d'eccellenza. Sono in Piazza del Campo, oggi la città si tinge di rosa, è tutto pronto, come potete vedere alle mie spalle. Si sta preparando per la partenza del Giro d'Italia, della dodicesima tappa. Quella che da Siena porta a Bagno di Romagna per oltre 200 km di pedalata. Il Giro d'Italia passa così per le terre di Siena portando una boccata di aria fresca dopo oltre un anno di pandemia che ha limitato notevolmente gli eventi sportivi, nonché le occasioni di socialità. Il via, dato intorno alle 11.30, ha visto in prima fila i gambernal in maglia rosa, primo nella classifica generale. In Piazza del Campo, ma da spettatore, anche il campione Francesco Moser, vincitore della tappa a Siena nel 1978. I tempi sono cambiati, però la corsa, la bici è rimasta ancora uguale perché è uno sport difficile, faticoso, anche se oggi magari hanno mezzi, hanno molta più assistenza che i nostri tempi. E poi noi facevamo anche molti più chilometri col Giro, ci faceva molta più fatica, anche se adesso facendo queste tappe corte si va più forte. Il sindaco prima l'ha invitata al Palio, se e quando si farà ovviamente? Se ci sarà l'occasione cerco di venire. Con le parole di Moser, il servizio di Teresa Scarcella e anche le immagini di Montalcino e quindi dell'undicesima tappa, rientriamo nel vivo della nostra intervista, saluto ancora Vincenzo Albanese che è rimasto qua con noi e si è goduto anche lui queste immagini del territorio senese. Ancora buonasera. Buonasera, sì, rivedendo queste immagini è stata veramente una gran bella giornata che ci ha accompagnata anche con del sole, quindi è stata veramente un'emozione partire in piazza del campo, soprattutto anche per me che sono toscano, quindi è stato veramente bello. Certo, un'emozione doppia. Ecco, siete una squadra giovanissima, anche lei è molto giovane, ha vestito anche la maglia azzurra nelle prime due tappe, immagino sia stata una grande soddisfazione. Sì, esatto, noi siamo una squadra molto giovane, molti di noi comunque hanno proprio esordito per la prima volta il Giro d'Italia e quindi fino adesso stiamo facendo veramente un gran Giro d'Italia e sì, anch'io ho fatto un bel giro, i primi giorni ho vestito la maglia blu e comunque stiamo dimostrando di essere attivi nella Corsa Rosa tutti i giorni. Ecco, qual era l'obiettivo che sarà posto a inizio Giro e come sta andando e se pensava di raggiungere appunto questi risultati? Allora, l'obiettivo era vincere una tappa, ci siamo riusciti ieri con Lorenzo Fortunato nella tappa regina perché vincere sul Monte Zoncolan è una salita a mito per il nostro sport, quindi l'abbiamo centrato alla grande. Ecco, sicuramente un successo però che premia tutto il lavoro della squadra. Sì esatto, io ieri gli ho dato una mano fondamentale per cercare di entrare nella fuga di giornata che dall'inizio sapevamo che sarebbe stata quella decisiva e poi lui ha finalizzato alla grande. Ecco, parliamo della tappa invece di oggi, è stata una gara caratterizzata dalla maxi caduta iniziale, poi anche dal maltempo, ecco, che giornata è stata? Oggi è stata una giornata un po' particolare, dopo neanche 5 minuti c'è stata una grande caduta che sono stati coinvolti tanti corridori e tra l'altro so che si sono fatti anche parecchio male, noi fortunatamente niente di grave, stiamo tutti bene, quindi va bene così e guardiamo avanti ai prossimi giorni. Ecco, rispetto invece alla vittoria della tappa di ieri, Contador, abbiamo visto su Instagram si è commosso, aver visto le sue lacrime, le lacrime di un campione, cosa è significato per voi e se vi ha detto qualcosa poi al termine? Eh sì, vedere uno come Alberto Contador che si commuove per una nostra vittoria è qualcosa di veramente speciale e sì, comunque ci ha fatto i complimenti a tutto il team perché stiamo facendo veramente un bel giro d'Italia. Ecco, chiudiamo, anche se in realtà lo ha già detto all'inizio dell'intervista, proprio con questo territorio, sia con il territorio senese, quindi la tappa che ha visto l'arrivo a Montalcino e poi con la partenza giorno dopo in Piazza del Campo, che tappe sono state? All'inizio lei ha detto, sono state comunque emozionanti perché da Toscano chiaramente essere qua ha un valore doppio, ecco, che tappe sono, che cosa è significato per lei? Esatto, per me è stato molto emozionante perché diciamo che sono le strade dove mi alleno tutti i giorni, il Chianti, tutta l'area di Siena, io sono di Firenze, però comunque è Firenze e Siena, diciamo che è vicino, quindi conoscevo tutti i 200 chilometri alla perfezione, passare da casa fa sempre una grande emozione. Grazie, grazie a Vincenzo Albanese per essere stato qua con noi, grazie mille. Grazie, buonasera a tutti. Adesso parliamo di calcio, ma prima un piccolo break pubblicitario. E quindi rientriamo a Domenica Sport Sera per parlare di calcio, lo facciamo in compagnia di un graditissimo ospite, ossia il padrone di casa di questa trasmissione, che saluto Filippo Mediattini, buonasera. Buonasera Simona, buonasera a tutti. Allora entriamo nel vivo di quella che è la Serie D, ricordando che questa domenica nessuna squadra è scesa in campo perché la Lega Nazionale Direttanti ha modificato il calendario per permettere a quelle squadre che dovevano recuperare i match di farlo proprio in questo periodo stop, quindi per questa domenica e per la prossima, dove quindi il Siena poi giocherà contro il Trastevere. Guardiamoci prima la classifica della Serie D, Girone E, che vede in prima posizione il Montevarchi a 59 punti, poi segue Trastevere a 54 punti, a 49 il Trestina, a 47 punti troviamo il San Donato Tavarnele e il Follone Cagavorrano, poi a 44 punti la Pianese, a 43 punti la Ciennesiena e Cannara, a 41 la San Giovannese e il Tiferro Lerchi, a 40 punti Montespaccato, a 38 punti l'Ornano Badesse, poi a 35 Ostiamare, a 34 punti troviamo Foligno e Flaminia e poi chiudono la classifica, Scandice a 29 punti, Grassin a 24 e la Siena Lunghese a 23 punti. Quindi chiedo subito al nostro ospite Filippo Megliattini cosa ne pensa di questo stop? Sì, uno stop un po' particolare, arrivato a mio avviso anche un po' all'improvviso, perché alla fine del campionato mancano pochissime giornate, alla fine chiaramente della stagione regolare, poi sarà il momento dei play-off, perché ricordiamo che i play-out quest'anno in via eccezionale non ci saranno, quindi retrocederanno soltanto le ultime due di ogni girone. Comunque a proposito di questo stop è stato un po' particolare, visto che questa domenica nel Gironè nessuno recupera partite, quindi sostanzialmente le squadre sono ferme e domenica prossima soltanto il Siena giocherà contro il Trastevere, quindi è stato fatto soprattutto per altri gironi, per il Gironè che aveva soltanto una partita da recuperare, in altri gironi le situazioni sono un pochino più complicate, però la Lega ha preso questa decisione per fare in modo che le ultime quattro giornate di stagione regolare tutte le squadre giochino con tutte le partite a posto e nessun match da recuperare. Ecco, il Siena ne potrà beneficiare di questo stop secondo te? Sotto un certo aspetto sì e sotto altri no, partiamo dal no perché comunque il Siena, visto che c'è stato appunto il rinvio mercoledì, non gioca da un po' di tempo ed è riduce da sconfitte consecutive, quindi non è facile comunque allenarsi con il fardello di essere in un periodo molto molto negativo, poi sappiamo che Gilardino è un allenatore che ama vivere il campo, vivere le partite e quindi sicuramente la mancanza del match la domenica si fa sentire, mentre per quanto riguarda gli aspetti positivi sicuramente è collegato agli infortuni perché il Siena ha avuto diversi giocatori ai box, al momento non sappiamo esattamente quali sono le condizioni degli infortunati, però almeno al momento dello stop c'erano Carminati e Guberti che erano ancora in dubbio sul rientro in squadra, ad allenarsi con la squadra, mentre sappiamo che Sarri è ancora fuori, si allena in differenziato e sappiamo che Terigi e De Angelis sono rientrati. Speriamo magari che con questa pausa, quando ci sarà il match domenica prossima contro il Trastevere, tutti gli effettivi siano a disposizione. Parliamo adesso di mercato, perché quando si entra nel vivo di questo periodo non si parla d'altro che di mercato, infatti ci sono tantissime voci anche su Gilardino, dei rumors, facciamo un punto. Ecco sì, hai detto bene, si parla di voci e rumors, perché chiaramente ancora di confermato c'è sostanzialmente niente, anche perché il campionato è assolutamente nel vivo, comunque sì, Gilardino è assolutamente stato al centro di mille voci, tantissimi siti locali riportano insomma che alcune società sono in contatto con Gilardino, si parla soprattutto di società di Lega Pro, però appunto al momento sono soltanto voci, a me sinceramente non risulta ancora che Gilardino abbia preso in considerazione queste ipotesi, chiaramente ci penserà a fine stagione, anche se rimanere al Siena è un'opzione chiaramente che c'è, ma sono argomenti di cui la società parlerà con il mister quando la stagione sarà sul finire, si siederanno ad un tavolo e decideranno, quindi ancora è un po' presto per dire se il futuro di Gilardino sarà lontano da Siena oppure no. Ecco, parliamo invece adesso di campo, Trastevere prossima avversaria, che partita sarà? Ecco sì, come abbiamo detto un po' domenica prossima sarà una partita sicuramente interessante, perché il Trastevere sulla carta è una squadra molto forte, è la seconda in classifica ed è anche molto vicino alla testa, è stata prima per gran parte del campionato, però è una squadra assolutamente in caduta libera, non vince dal 21 di marzo, poi adesso ha avuto anche problemi legati al Covid che come ben sappiamo lasciano degli strascichi in tutte le squadre, l'esempio Principe in questo girone è l'Ornano Badesse che ha avuto una stagione a due facce prima e dopo il Covid e quindi sicuramente il Trastevere è in un momento veramente delicato ed è in un momento delicato anche il Siena che gioca con una squadra forte e dovrà assolutamente guadagnare i tre punti per riaggiustare un po' una classifica che al momento vede il Siena fuori dalla zona playoff. Grazie, grazie a Filippo Minattini per essere stato nostro ospite, speriamo di ritrovarti qua al mio posto a condurre la tua trasmissione, anche se devo dire, ormai lo dico, ogni settimana ci sto prendendo gusto quindi non so se riavrai la tua trasmissione, sto scherzando chiaramente, speriamo di ritrovarti presto. Chi va a Roma perde la poltrona. Speriamo di riconquistarla al più presto dai. Speriamo, grazie a Filippo Minattini per essere stato qua con noi, adesso andiamo a parlare di calcio parlando della Pianese che mercoledì contro lo Scandicci ha perso 2-0 e ci guardiamo gli alaiz. Buon pomeriggio a tutti dallo stadio Turri di Scandicci, trentesima giornata del girone E di serie D, si affrontano Scandicci e Pianese, una gara importantissima per entrambe, per lo Scandicci in chiave salvezza, per la Pianese in chiave playoff. Si parte il calcio d'avvio dato dal direttore di gara Migliorini di Verona. Attenzione a Ferretti che si libra molto bene, va al tiro, al sinistro ed è un gol bellissimo di Andrea Ferretti, si è ripresentato alla grande dal primo minuto. Meglio di così non si poteva sperare per lo Scandicci. Seguiamo il calcio punizione di Mazzolli, è uno schema, ci arriva Ferretti con la punta, anticipa il portiere, ma non riesce a fare molto di meglio. Mazzolli sul punto di battuta, parte con il destro, la pala supera la barriera, scheggia il palo. Al solito Mazzolli va dalla destra, da lì sono nati molti pericoli per lo Scandicci ed eccolo qui il gol di Meucci, lo abbiamo chiamato 2-0 Scandicci. 2-0 Scandicci, Meucci dal piede caldissimo, come sempre di Mazzolli. Attenzione per la pianese, la palla dentro sulla destra per Tambu, il cross è imbattuto inizialmente da Mazzolli, il colpo di testa pericolosissimo di Mengali, pallone forse anche deviato in calcio d'angolo, chiede fuori gioco lo Scandicci, non viene segnalato, allora contro cross sul secondo palo, la pala che arriva a Jacoponi e ancora lamentare da parte lo Scandicci perché fuori gioco sì, qui sembrava abbastanza evidente, perché è iniziato giustamente a piovere, quindi ulteriore fattore per il secondo tempo. Si parte con la sciabolata di Mazzolli verso la parte sinistra, i difensori della pianese, ancora Mazzolli, il cross teso, molto interessante, la palla passa, Mugelli di testa, alto, alto, non era forse Mugelli ad aver colpito, però suonare la carica il cross dalla sinistra, esce Jacoponi, non trova il pallone, poi disimpegno di Viola, della difesa di Mister Daviti, la palla lunga, attenzione per Arras, che si allunga il pallone, forse va anche a colpire Jacoponi, no, non c'è niente. Sì, diciamo che sulla posizione di partenza di Arras avevo dei dubbi, però li ha risolti Jacoponi con questa grandissima uscita a terra. Attenzione alla pianese, può ripartire in qualità numerica, buco centrale di Diana, Zaccagnini si appoggia all'avversario, ma non c'è fallo, secondo il direttore di gara, attenzione, prova a venire su, con la palla dentro per Arras, che sembrava assolutamente in fuorigioco. Sì, sì, il guarderino ha la banderina alzata. C'è un palo colpito da Diana, mamma mia, un intervento durissimo. Il triplice fischio del direttore di gara, lo scandici, batte 2 a 0, la pianese, i gol di Ferretti al terzo, di Meucci alla mezz'ora e sono tre punti davvero importantissimi per lo scandici, che sale a quota 29 punti e davvero riparte alla grande e diciamolo, infrange anche un tabù che sembrava clamoroso, quello del Turri, arriva il primo successo al Turri della stagione. E sempre riguardante la pianese, guardiamoci anche l'intervista di Francesco Folino. È stata una brutta prestazione, abbiamo cercato di mettercela tutta, di impegnarci, purtroppo non è andata, cerchiamo di rifarci subito nella prossima partita dopo questo stop. Sì, noi ce la metteremo tutta, speriamo di arrivare più in alto possibile, ora dobbiamo star fermi, cerchiamo di allenarci al meglio possibile e appena riprenderemo cerchiamo di dare il massimo come sempre. Ma tutto bene, mi trovo bene con la squadra, con lo staff, ho iniziato un po' a giocare, in campo mi trovo bene con tutti i compagni, siamo una grande squadra, speriamo di continuare così. Ma ci aiutano sempre a stare concentrati in allenamento, in partita, a giocare semplice, ci aiutano su tanti punti di vista e anche molto fuori dal campo. È una grande squadra che mi ha dato un'opportunità, mi ha fatto venire qua, ho avuto l'occasione di ripartire, di iniziare a giocare, prima esperienza tra i grandi e mi sono trovato molto bene, una bellissima società. E con le parole di Francesco Folino chiudiamo il capitolo pianese, apriamo invece quello dell'Ornano Badeste, siamo in compagnia del direttore aria tecnica Simone Guerri, che saluto, buonasera. Salve, buonasera a tutti. Domanda d'obbligo, visto il periodo, cosa ne pensa di questo stop del campionato? Cosa ne penso? Speravo finalmente di poter fare una settimana tipo, sinceramente, anche per l'allenatore, da quando abbiamo cambiato non ho avuto mai modo di allenare per una settimana intera, però sono cose che non ci possiamo fare niente, quindi prendiamo la decisione come va presa, nel senso ci siamo organizzati in modo differente e ci alleneremo in questo modo, pertanto diciamo che siamo abituati a fare ogni tre giorni giocare. Ecco, l'Ornano Badeste reduce da una vittoria contro il Grassina, venivate da due sconfitte consecutive, quindi quanto è stato importante per il gruppo tornare a vincere e quindi conquistare tre punti? Sì, è stato importante soprattutto per il morale della squadra, abbiamo avuto delle difficoltà immense da febbraio, da quando c'è stato lo stop, comunque 20 giocatori che sono stati per 30 giorni completamente fermi per iniziare ogni tre giorni a giocare è stato impegnativo sotto l'aspetto fisico. e non anche quando dopo 7-8 partite che abbiamo trovato un po' di condizione, poi o per un modo o in un modo o in un altro ci girava anche storto, quindi diciamo che adesso stiamo giocando tanto con la paura. Spero che appunto questo risultato, la notizia comunque sia non ci sono le retrocessioni, ci dia almeno respiro di ritrovare un po' di serenità dal punto di vista soprattutto del gioco. Ecco, infatti proprio rispetto a questo, insomma i problemi chiaramente legati al Covid che avete avuto, insomma hanno sicuramente limato la stagione, gli obiettivi sono cambiati oppure no? Sono stati ridimensionati oppure no? Ma diciamo di sì, perché noi quando ci siamo fermati eravamo a tre punti dalla prima classifica e da lì in poi sono iniziati i problemi, i problemi fisici, abbiamo perso qualche giocatore, uno su tutti i frosinini che il Covid l'ha fermato, speriamo non per sempre, insomma ha lasciato degli strascichi importanti nei calciatori e quelli che erano rimasti, che hanno tirato tanto la carretta, si trovavano sempre alle prese con pubalgie, ma hanno struttito i denti tutti, quindi io sono comunque sia soddisfatto dell'impegno dei ragazzi, della squadra. È chiaro che è una stagione da valutare anche comunque mettendoci questo Covid di mezzo, questo sicuramente, perché quello che è capitato a noi sinceramente tutti insieme nel stesso momento è stato pesante, pesantissimo. Chiaramente, in più c'è stato anche il cambio d'allenatore, è arrivato Rigucci, come si sta trovando con la squadra, anche se già nella prima domanda ha ricordato quanto sarebbe importante lavorare con tranquillità, però chiaramente questo è il periodo e come ha appena detto, come si sta trovando e soprattutto, visto che parliamo già di mercato in questo periodo, si troverà conferma anche nella prossima stagione, se ce lo può dire. Sì, allora, questo non glielo posso dire perché sinceramente non lo so neanche io, diciamo che ci sono 4 partite ancora, quindi 12 punti in palio e sia il mister che la squadra lo sanno, che chiaramente sono sotto esame, come giusto che sia. Personalmente l'impatto di Rigucci mi ha soddisfatto molto, è una persona molto pratica, non si piange addosso, è venuto comunque sia in un momento in cui la squadra era veramente, veramente in difficoltà e non poteva incidere neanche dal punto di vista fisico, perché appunto ogni tre giorni si giocava, quindi ha lavorato tanto sulla testa dei ragazzi, si è rimboccato le maniche, non si è mai lamentato, è un guerriero, comunque sia, ti dà motivazioni, ha comunque buone idee, chiaramente anche a me mi piacerebbe, adesso comunque ho due settimane per stare con lui e vedere anche le settimane, la settimana tipo come allena, però insomma mi piace molto sinceramente. Sul futuro appunto non posso rispondere perché non sono decisioni che prenderemo ora, ci dovremo anche con la proprietà a fine campionato e faremo le valutazioni. Grazie, grazie a Simone Guerri per essere stato qua con noi, grazie mille. Prego, grazie a voi. Noi continuiamo a parlare di calcio, partiamo alla Sena Lunghese che ha perso 3-0 contro Foligno e ci guardiamo il servizio. Come pochi giorni possono cambiare un'intera stagione. Il Foligno si presentava al doppio impegno casalingo contro a Stevere e Sena Lunghese con tante incognite dopo le 6 sconfitte di fila. Ora invece con 6 punti in cascina per i ragazzi di Vicarelli la salvezza è cosa praticamente fatta. La vittoria odierna contro la Sena Lunghese è bella e netta con un 3-0 firmato da San Severino ed è al solito Cesario giunto a quota 5 reti. Per i falchi un alto successo di carattere e di intensità. La squadra ha corso tantissimo ed ha aggredito conquistandosi con determinazione gli episodi decisivi per incanalare il match sui binari giusti. Andiamo a vedere i riflessi filmati del match. È una gara delicata perché la Sena Lunghese in pratica è uno degli ultimi treni salvezza, mentre la truppa di Vicarelli vuole chiudere la pratica. Squalificato Settivi torna a titolare San Severino. Si gioca anche oggi al Pietro Palmieri di Bevagna vista l'indispollibilità dello stadio Enzo Blasone. L'approccio al match del Fuligno è abbastanza aggressivo e lo testimonia anche la prima mezza occasione dopo pochi secondi quando Fanetti va a rinvio della propria area ma trova sulla propria strada Cesario. La sfera si indirizza verso la porta ma Marini non si fa sorprendere. Dopo i primi dieci minuti anche gli ospiti cominciano a prendere fiducia e ne esce una sfida maggiormente equilibrata anche se il Fuligno è ben disposto e non presta il fianco alle iniziative toscane che trovano in Redi il proprio uomo più pericoloso. A 27esimo arriva infatti la migliore occasione per i ragazzi di Marmorini che da un corner contro riescono a partire in un veloce contropiede con Minnocci che avvia il proprio Redi. Con la rieta e un rimpalo sfortunato e l'esterno toscano ha lo spazio per caricare il destro con Marricchi che blocca la conclusione risultata centrale. Fuligno che pazienta e cerca il momento giusto per colpire lo trova a 39esimo. Bel dialogo tra Cesario e Broso al limite con il pallone che viene recapitato verso sinistra un liberissimo Sanseverino. Il diagonale del centrocampista palermitano è chirurgico e si insacca alle spalle di Marini. Fuligno in vantaggio con il primo gol in campiato di Sanseverino e gara che adesso cambia completamente volto. Avvio di ripresa che mette il sigillo definitivo sulla partita. Fuligno infatti in 12 minuti chiude i giochi. Al quarto infatti un errore in uscita difensiva favorisce Broso che viene steso in area da Cecci. Per Duzel del Castelfranco non ci sono dubbi ed è calcio di rigore. Cesario dal dischetto non perdone, sigla il 2-0 con un tiro forte e centrale. Passa poco e cale il sipario. Al dodicesimo Aldovrandi di forza a centrocampo, va a recuperare palla. Poi viene innescato alla falcata in profondità con Cesario, bravo prima a disinteressarsi dell'azione perché è in fuorigioco. E poi a seguire il compagno che lo serve in area perfettamente. Tutto facile per il 3-0 e gara chiusa. Il resto è normale l'amministrazione con il Fuligno che sfiora il poker in varie occasioni. Al diciassettesimo Marini salva sulla zuccata di Cesario che al venticinquesimo invece si fionda su un pallone ribattuto all'ottimo Broso con il portiere toscano che deve smanacciare in angolo. Ancora Marini protagonista al 35esimo quando esce a murare un'azione personale di Giabbe Cucci, mentre al 37esimo il diagonale di Aslani non c'entra lo specchio. Insomma una vittoria larga e meritata per il Fuligno con la classifica che adesso si è fatta decisamente più tranquilla, visto e considerato che a retrocedere con tutta probabilità saranno solo le ultime due, ormai decisamente staccate. E a parlare di questa sconfitta anche il tecnico Simone Marmorini al termine della partita. E' un po' un light motive di tutta la stagione, quella che è successo oggi, insomma al primo episodio negativo, al primo gol è successo più di una volta che ci siamo un po' squagliati dal punto di vista mentale più che altro, perché quando poi non riusciamo più a tenere le distanze, non riusciamo a lavorare su spazi corti, a lavorare da squadra, diventiamo vulnerabilissimi e poi lo paghiamo con il risultato e questo è un qualcosa che ci portiamo dietro da tanto tempo. Abbiamo una piccola giustificazione dovuta al fatto che per fare partite di altissimo livello e strappare punti un po' a tutti noi dobbiamo sprecare un sacco di energie mentali, perché non possiamo sbagliare mai l'approccio e domenica scorsa abbiamo sprecato tanto e probabilmente oggi ancora non avevamo recuperato del tutto, quindi volevamo fare una partita cercando di tenere il controllo del palleggio, cercando di tenere il controllo e non alzare troppo il ritmo per non sprecare energie, chiaramente ci eravamo riusciti bene fino alla fine del primo tempo quando abbiamo subito la rete che poi chiaramente ci ha un po' cambiato i programmi e alla quale sinceramente abbiamo avuto una reazione mentale non all'altezza, però purtroppo un po' per colpe nostre ma un po' anche fisiologicamente queste cose ci succedono un po' da tanto tempo, perlomeno sono successe spesso nel corso del campionato. Sì, adesso dobbiamo, io non so sinceramente perché è finita la partita adesso quali sono i risultati delle altre squadre, però chiaramente la nostra situazione era già complicata prima e non è una sconfitta che può peggiorare più di tanto il nostro cammino e come noi dovremo andare a impostare le partite. Ci aspettano sicuramente da qui alla fine quattro partite, ci sono 12 punti a disposizione, dobbiamo assolutamente raccogliere il massimo e finché c'è un lumicino di speranza noi lo perseguiremo e cercheremo di portare fino a un fondo il massimo impegno perché dobbiamo assolutamente cercare fino all'ultimo minuto che la matematica ci concede l'obiettivo. Adesso chiudiamo il capitolo calcio, abbiamo chiuso quindi il capitolo calcio con questa intervista, parliamo di basket ma prima un piccolo break pubblicitario. Adesso come anticipato prima della pubblicità parliamo di basket della Serie B, la San Giobbe ha conquistato il pass per le semifinali chiudendo la Serie sul 3-0 contro Fiorenzuola, noi siamo in compagnia di Mattias Bortolin che saluto subito, buonasera. Buonasera. Ecco la Serie si è chiusa nel minor tempo possibile, ti aspettavi una Serie di quarti così dove avete dominato tutte e tre le gare? No, la verità non mi aspettavo una Serie così con tanta differenza, loro sono una squadra dove hanno giocatori molto bravi a giocare uno contro uno e a correre il campo aperto, ma siamo stati bravi a contrenerli e in attacco facendo il nostro gioco non abbiamo avuto tanti problemi. Ecco, infatti chiuderla così in tre partite adesso vi fa un po' rilassare, visto anche il Tour de Force dell'ultima parte del campionato, cosa significherà per voi questa settimana? Sì, rilassarsi fisicamente perché la tetta continua ad essere adesso che arriva a una Serie molto dura, questa settimana proporremo provare a giocare come sappiamo noi e poi fare tutto quello che il coach ci dica. Sarà una settimana, penso che una delle più importanti dell'estagio. Assolutamente, è importantissima perché domenica prossima c'è gara 1, come vedi la Serie con San Mignato? Cosa ti aspetti? No, vedo una Serie molto dura, molto fisica, penso che vincerà quello che proporre il suo gioco e sarà difficile per noi perché loro giocano con un'intensità molto forte e soprattutto in difesa. L'abbiamo visto infatti proprio durante il campionato, nella prima di campionato non è di presente causa infortunio, invece nel giorno di ritorno, quindi quelle partite contro San Mignato nel giorno di ritorno è rientrato da poco, sono state partite entrambi, sia quella dell'andata che quella del ritorno, molto equilibrate, ti aspetti questo equilibrio adesso oppure i playoff sono una cosa a parte? No, io penso che sarà un'altra storia, noi non siamo la stessa squadra di quelle due partite, penso che siamo cresciuti come squadra anche come giocatori individuali, ognuno sa cosa deve fare per il bene della squadra e abbiamo dato un passo grande in questo. Ecco, un'ultima domanda, quale sarà la chiave, il segreto per vincere la Serie e quindi di conquistarsi un passo per la finale, secondo te? No, la chiave è stare concentrati sempre, proponere il nostro gioco, perché sappiamo che loro fanno giocare male agli altri, quindi dobbiamo essere concentrati e soli in difesa. Grazie, grazie a Mattias Bortolini per essere stato qua con noi, grazie mille e adesso ascoltiamoci le parole del coach Bassi. Era importante iniziare bene, abbiamo iniziato benissimo, abbiamo messo subito la partita sui binari che volevamo noi e poi dopo l'abbiamo un po' gestita, secondo quarto abbiamo giocato così così, però ci stava essere sempre perfetti, non è possibile, alla fine la partita è stata veramente gestita con grande intelligenza e grande attitudine da parte dei ragazzi. Sì, sicuramente è un'occasione per recuperare, dopo tanto tempo avremo qualche giorno di riposo, però senza allentare troppo la concentrazione, il primo passettino, anzi passettone l'abbiamo fatto perché non era scontato vincere la Serie con questa autorità. Adesso niente, ci godiamo questa vittoria e poi da lunedì testa bassa come sempre. E adesso invece passiamo al campionato di Serie C Gold dove la Virtus.cea si arrende contro la capolista Livorno che così vola in Serie B, guardiamoci anche le grafiche di questo campionato. Un po' di attesa. Ah no, prima delle grafiche, in realtà questo è il bello della diretta, passiamo a parlare di Menzana, quindi cambiamo completamente argomento di Serie C Silver. Menzana che ha perso, ha perso 79-75 contro il CUS Pisa. Parliamo della Menzana adesso perché siamo già in collegamento con il coach Pierfrancesco Binella che intanto saluto, buonasera. Buonasera Simona, buonasera a tutti. Ecco un commento sulla partita a caldo. Una partita giocata sulla stessa falsa riga delle altre, stando a contatto e andando anche in vantaggio nel punteggio contro una squadra di qualità. alla fine, come sempre per piccoli dettagli, per un rimbalzo concesso, un possesso magari gestito meno bene, non siamo riusciti a vincere, però come sempre una partita di grande volontà per cercare di competere con squadre con più qualità di noi. Però grande merito ai ragazzi perché hanno fatto ancora una buona partita in cui è mancato un dettaglio particolare per provare a vincere. Ecco, è stata una partita molto combattuta. Dov'è che l'avete persa? Ma come dicevo prima l'abbiamo persa su due o tre situazioni in cui la loro esperienza ha pesato. Hanno cercato in alcuni momenti decisivi di farci spendere dei falli in una condizione in cui il giudizio ha pesato verso i giocatori più esperti. Siamo caduti in qualche piccolo ranello di piccole provocazioni che ci hanno fatto regalare qualche punto a loro, anche nel momento in cui erano in particolare difficoltà. Questo credo sia stata la chiave di alcuni episodi decisivi, come purtroppo ormai ci succede da settimane. Però, ripeto, abbiamo avuto il merito rispetto alle altre settimane di non prendere dei break che erano poi poco ricucibili. Siamo stati sempre punto a punto. Questo è un aspetto da un lato di grande soddisfazione e dall'altro di grande rammarico perché ancora una volta potevamo fare qualche cosina di meglio per avere la soddisfazione dei vinci. Certo, come ha appena ricordato è una fase sicuramente difficoltosa, molto difficile. Stasera il Costone ha vinto, le semifinali sembravano un obiettivo raggiungibile. Poi cosa è successo? Cosa ha determinato questo crollo? Adesso cosa servirà a fare anche per il morale? Il fatto che si siano perse delle partite in fila e sistematicamente di certo non è stato un buon segnale per quello che pensavamo di poter fare. Non siamo crollati, siamo stati competitivi contro squadre che giocano per salire di categoria e non era per noi un obiettivo di quest'annata. Certamente è frustrante con te per restare a livello e per perdere ogni volta. È successo semplicemente che il livello dei nostri avvizzari rispetto alla prima fase è salito e giochiamo contro squadre che da anni provano a salire e che hanno una proponità molto diretta dalla nostra. Senza nulla togliere ai nostri ragazzi ci sono squadre ben più pronte di noi per salire e con un percorso molto più profondo da rispettare del nostro. Noi l'escorso anno eravamo in promozione e quest'anno giochiamo per competere contro squadre che hanno pace più importanti per salire, anche se capisco sia paradossale, giochiamo con soddisfazione a questo livello e proveremo a far meglio in futuro. Ecco, come si dice in tutti gli sport, non si è da soli in campo, non si gioca da soli. Non aver potuto contare su Benincasa e Perin ha inciso? Senza dubbio, però purtroppo gli infolzioni fanno parte del percorso di una squadra, la siamo perso di notte e di struttura, però certamente ci potevano dare un pizzico di esperienza in più che in una partita come quella di stasera sarebbe stata importante, ma è anche stata un'occasione per far fare esperienza ai nostri giovani che a questo livello non l'avevano mai visto giocato e dobbiamo prendere quel buono lì senza farci prendere da chissà quale rammare. Grazie, grazie a coach Binella per essere stato qua con noi, adesso in attesa di recuperare il collegamento con il coach della Virtus, Andrea Spinello, oppure a passare direttamente a chiamare appunto il costone, quindi il direttore generale Andrea Naldini, fra poco e fra poco consentiremo, guardiamoci il prossimo turno, eccolo qua, fra poco lo vedrete anche voi, quindi la terza giornata del giorno di torno di pool promozione vedrà la Menzana Academy contro Carrara il 30 maggio alle 18, poi il costone giocare contro Fucecchio e poi Quarrata contro il Cus Pisa. Adesso invece mi conferma la regia che abbiamo il coach Andrea Spinello, quindi ritorniamo indietro perché prima stavamo parlando proprio della Virtus che si è resa contro la capolista Livorno e così è volata in Serie B, siamo in compagnia dei coach che saluto intanto buonasera. Ciao, buonasera. Ecco, un commento sulla partita. Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima perché Rappielle è una squadra di altissimo livello e l'ha dimostrato dalla prima giornata e ha meritatamente vinto la partita e ha conquistato meritatamente anche la Serie B, però comunque nell'arco delle due partite diciamo che per 7 quarti siamo riusciti a lottare con loro, poi ieri l'ultimo quarto a un certo punto della partita ci siamo abbastanza allontanati e loro sono riusciti a vincere la partita. Ecco, la corsa playoff però è ancora viva, tutto si giocherà nelle ultime due partite contro Castelfiorentino e Iana, cosa dovrà fare la squadra e cosa dirai ai ragazzi in vista di questi due incontri così fondamentali? Prima di tutto bisogna riposarsi fino a martedì, martedì ci ritroveremo, sappiamo benissimo e ci manca qualche punto per garantirti lo sconto, il fattore campo insomma nei playoff e abbiamo due partite molto difficili, sono Castelfiorentino e a Iana, ma vi dirò sicuramente di riniziare dalla partita da dopo specchia e di archiviare questa partita e cercare di trovarsi e giocare al meglio assolutamente ai prossimi due. Grazie, grazie al coach della Cia Virtus e Sena Andrea Spinello per essere stato qua con noi, grazie mille. Ciao, grazie a voi, buona serata. Adesso prima di chiudere il capitolo basket parliamo di Costone, fra poco saremo in compagnia del direttore generale Andrea Naldini, Costone che ha vinto 102 a 75 contro Carrara, quindi una vittoria importantissima, una vittoria che significa anche accesso ai playoff, fra poco ne parleremo e prima in attesa di questo collegamento, visto che ancora non ce l'abbiamo, passiamo alla pubblicità, al piccolo break pubblicitario. E quindi durante la pubblicità abbiamo recuperato il collegamento con il DG Andrea Naldini della Vismederi Costone, che saluto intanto, buonasera. Ciao Simona, buonasera, buonasera a tutti. Una vittoria importantissima, ecco, una vittoria che forse sentiamo anche in sottofondo dalle tue parole, che significa accesso ai playoff, quindi insomma significa un obiettivo molto importante raggiunto. Sì, senti, allora ti confesso che siamo qua fuori, stiamo mangiando dei panini e tra poco ripartiamo, è una vittoria importante, non era una partita semplice, come non lo è stato, diciamo, da quando abbiamo iniziato il percorso in questa breve stagione, però siamo contenti, siamo veramente con il morale alto, perché credo dopo tanto era un successo al quale noi credevamo, credevamo molto e lo abbiamo fortemente voluto. Partivamo di rincorsa, come si suol dire, siamo partiti da indietro, partivamo addirittura da meno 6, quindi meno 6 nei confronti di poter superare i potenziali avversari e quindi è stato un cammino molto molto importante e i ragazzi sono stati bravi, ce lo meritano, niente, tutto va. Sicuramente una vittoria di squadra che ha visto una grande crescita anche da parte del gruppo, come stavi appena dicendo? Scusami, non ti ho sentito, sto perso. Dicevamo una vittoria di squadra, però che ha visto comunque il gruppo crescere molto in questo periodo, è stato proprio questo secondo lei la chiave di questa vittoria? Sì, no, sicuramente sì, noi abbiamo sempre creduto in questo gruppo, ne abbiamo parlato spesso col Presidente Emanuele Montomoli e col Vicepresidente Roberto Rosa, noi e io credevo tantissimo in questo gruppo, volevo solo avere la possibilità di potermela giocare alla pari, cioè di essere al completo, le squadre poi non è che in un batter d'occhio si mettono in moto, noi avevamo bisogno di Amalcan, avevamo bisogno di giocare insieme, questo c'è stato, c'è stato dato un minimo di possibilità e il gruppo, come hai detto giustamente te, è quello che ha fatto la differenza alla fine, perché anche stasera ragazzi in un campo sicuramente non semplice hanno giocato insieme, hanno giocato tutti quanti, hanno giocato avanti con la voce di ricerca, io qui c'ho Francesco Braccagni, se vuoi ce l'ho qui accanto un attimo, se vuoi ce lo faccio perché è qui accanto a me e penso potremmo si possa far piacere una domanda a lui, il coach con Radio Sera TV. Sì, buonasera. Ne approfittiamo di questa vostra pausa per riuscire anche a parlare appunto con il coach Braccagni, per noi è un piacere almeno sentire anche le sue parole, ecco a questo punto le chiedo anche a lei cosa ha significato questa vittoria anche per il lavoro fatto in questa stagione e quindi per già questo importante obiettivo, anche se adesso a cosa si pensa? Qual è l'altro obiettivo da raggiungere? Intanto guarda, devo fare veramente complimenti ai miei ragazzi perché sono stati veramente eccezionali, ci siamo ritrovati a lavorare in condizioni veramente disagiate, specialmente la prima parte del campionato, avendo giocatori con il Covid, infortuni vari e quindi ci abbiamo messo più tempo per assemblare la squadra, appena abbiamo avuto l'occasione e la possibilità di allenarsi più intensamente credo che i risultati sono venuti fuori, questo è il campo che parla, veramente sono soddisfatto del lavoro che hanno fatto i ragazzi, sono stati eccezionali, abbiamo fatto una rimonta incredibile, abbiamo recuperato la menzana, abbiamo recuperato 6 punti e questo è un motivo di grande soddisfazione quando tutti ci davano per spacciati all'inizio della seconda fase, quindi veramente ora cercheremo di dare il meglio ancora per le prossime settimane e vediamo che cosa facciamo. Ecco, rispetto proprio a questo, ha appena detto, ci davano comunque non sicuramente non era pensabile raggiungere all'inizio questo obiettivo, lei quando ha iniziato invece a credere veramente nel potenziale e quindi nella crescita del suo gruppo? Ma appena abbiamo iniziato a lavorare in una certa maniera, perché comunque sfido chiunque a giocare 5 partite in 15 giorni e iniziare il campionato senza aver fatto un allenamento, appena ci abbiamo avuto la possibilità di lavorare, ci siamo messi lì lavorando duro veramente, abbiamo fatto un grandissimo lavoro, tutto il mio staff e tutti i ragazzi sono stati eccezionali, sicuramente la svolta è stata a Fucettio, nella partita più difficile abbiamo tirato fuori vena veramente al massimo e questo ci ha permesso di prendere grande fiducia nei nostri mezzi, abbiamo dimostrato sia con Pisa e stasera di avere una grande forza, soprattutto mentale, perché anche stasera era difficilissimo, era una partita complicata contro una squadra che comunque ha 0 punti, anzi ha 2 punti, ma era una squadra che non gli puoi regalare niente, nel primo tempo abbiamo subito 45 punti, questo dimostra che se non ci mettevamo a difendere saremmo usciti sconfitti da questa partita. Grazie, grazie al coach Francesco Braccani per essere stato qua con noi, ringraziamo anche il DG Andrinaldini per aver partecipato anche lui, grazie a questo intervento, adesso chiudiamo il capitolo basket, parliamo di volley, di Emma Villa, stessi anche perché questa è stata una settimana di grandi novità, fra poco avremo in collegamento telefonico anche Lorenzo Agnelli, parliamo subito di mercato perché è arrivato proprio ieri il primo colpo di mercato, sia il regista Riccardo Pinelli, questo significa che Marco Fabroni ricordiamolo che è arrivato durante la stagione, quindi in stagione in corso, non sarà più parte del team Bianco Blu, quindi l'arrivo di Riccardo Pinelli apre quindi poi anche ad altri scenari rispetto a quello che sarà il mercato di questa estate, quindi il nuovo coach, ricordiamolo, Lorenzo Tubertini sarà chiamato a costruire il nuovo roster e noi siamo invece compagnia di Lorenzo Agnelli che mi hanno confermato in collegamento con noi, che saluto, buonasera. Buonasera Simona e buonasera a tutti gli spettatori. Quindi abbiamo detto, arrivo di Tubertini, arrivo di Pinelli, adesso cosa ci dobbiamo aspettare Lorenzo? Adesso ci dobbiamo aspettare, intanto secondo me le prime conferme, riconferme, era importante ha chiesto il nome del palleggiatore perché era abbastanza aspettato che il palleggiatore della prossima stagione non sarebbe stato di nuovo Fabroni, ma la società avrebbe puntato a un altro palleggiatore, ovviamente italiano e hanno deciso su Riccardo Pinelli che è una scelta interessante perché è un ragazzo comunque non più giovanissimo, ma ha la sua esperienza, ha fatto esperienze importanti anche in A1 come dice alla Calcetonia Verona, due anni questi ultimi a Reggio Emilia dove si è ben confortato e ora però c'è il momento secondo me delle riconferme, riconferme di cui aveva un po' velatemente già parlato qualche settimana fa il Presidente, il numero 1 Gianmarco Bisogno, visto il suo voto positivo sui giovani, i talenti, le riserve che si hanno comportati molto bene, quindi ci aspettiamo che arriveranno le conferme in tronco di Ciulli, di Tuocchio, di Panciocco, di Panta Utreli della Volpe e poi ovviamente anche i nomi un po' più pesanti. Ecco, proprio rispetto a questo, visto che stiamo vedendo le immagini sottofondo di Gara Trego, vediamo in campo quindi tutti i titolari giocare contro Brescia, quella partita, l'ultima partita in casa, proprio rispetto a queste immagini che stiamo vedendo, quindi con inquadrato Fabroni che abbiamo già detto che ha salutato Siena, ma che in realtà anche gran parte dei titolari, ecco cosa ci dobbiamo aspettare invece rispetto al roster che fino a poche settimane fa, quindi il roster è titolare, hai parlato di giovanissimi, invece adesso rispetto ai non giovanissimi, ossia quelli che erano le pedine, anche se Romano è giovanissimo, però comunque quelle che erano le pedine importanti di questa squadra, cosa ci dobbiamo aspettare? Sì, giusto Romano, effettivamente importante, il capitano dei Danco Blu sicuramente non sarà purtroppo parte del roster del prossimo anno, ha salutato indirettamente Siena anche con una sua foto su Instagram dicendo con una disascalia che era tornata nella sua Milano e ci sarebbe restato e quasi sicuramente, manca l'ufficialità, ma sarà il vice opposto di Jean Patry alla Power Volley Milano, all'Allianz Milano, quindi si farà la sua esperienza da vice in Superlega, era anche abbastanza logico visto la grande stagione che ha fatto quest'anno, nonostante poi quello che è successo in semifinale contro Brescia, però oltre a lui servirà un opposto di peso sicuramente italiano e probabilmente sarà una squadra tutta italiana, quello che sta ricercando e ha anche detto un po' il direttore sportivo Fabio Messini e sarà importante anche lavorare chiaramente sui nomi di peso, nomi di peso che potrebbe esserci anche l'intenzione di voler confermare Jacopo Massari, visto comunque la conoscenza e il rapporto anche che c'è con coach Tubertini, Modenese, invece Massari di Parma, insomma si conoscono bene, lo ha allenato, quindi può essere veramente importante anche questo rapporto che hanno e chi sa, insomma Jacopo Massari è un nome veramente importante per l'A2, un A2 che magari può sembrare un po' stretta al giocatore Massari, ma è vero anche che la Superlega potrebbe vederlo come riserva e quindi potrebbe avere meno spazio, quindi potrebbe essere interessante poter rimanere in questo percorso a Siena e chi sa, chiaro che c'è una spazia un po' da rifondare perché anche Barone quasi sicuramente non farà parte della spazia del prossimo anno, Iudin quasi sicuramente, quindi ho ancora molti tasselli da riempire, ma sicuramente nelle prossime settimane inizieranno a fioccare dei nomi interessanti. Grazie, grazie Lorenzo Agnelli per averci fatto questo punto sul mercato, grazie mille. Grazie a voi. Prima di passare a parlare della Ego Handball, restando a parlare di volley, ricordiamo anche le parole del direttore sportivo, come ha detto Lorenzo proprio pochi minuti fa, direttore sportivo Fabio Mechini che durante la conferenza stampa che si è svolta per la presentazione del coach Tubertini ha ricordato che la volontà per questa stagione sarà quella di formare una squadra prettamente italiana, quindi questo significa che sicuramente non ci sarà spazio per lo straniero Iudin, quindi ci dobbiamo aspettare una squadra interamente italiana, questo ha spiegato Mechini, per fare in modo di reinserire poi magari quando ci sarà bisogno, quindi nelle fasi più calde del campionato, uno straniero, questo significa anche avere poi un vantaggio in una presunta serie play-off, quindi questa è la volontà della società dell'Emma Villas e Siena, però sicuramente staremo a vedere poi, come ha ricordato Lorenzo, nei prossimi giorni quello che accadrà, nei prossime settimane, queste sono settimane intense per tutti i club di serie A2, ricordiamo anche che avranno sicuramente delle rivoluzioni anche all'interno dei propri roster, dovuti anche al fatto che nei club della massima serie, quindi della Superlega, sta accadendo di tutto, come avete sentito anche voi che seguite il volley. Adesso passiamo alla Ego Handball, perché siamo in collegamento con Teresa Scarcella, che saluto, buonasera. Buonasera, ciao Timona, buonasera a tutti. Partiamo parlando della partita, è finita a 31 pari contro Pressano, che partita è stata? Un altro pareggio amaro per la Ego Siena, perché diciamo che sembrava che potesse finire diversamente, il primo tempo la Ego è riuscita a passare addirittura avanti di 4 lunghezze su 10 a 6, a metà del primo tempo, poi in realtà si è fatta recuperare, Pressano ha chiuso la prima mezz'ora su 14-15, quindi in vantaggio. Il secondo tempo è stato praticamente un copia in colla, con la Ego sempre avanti, Pressano che ha sempre rincorso, pur rimanendo comunque alle spalle. A 7 minuti dalla fine l'Ego era avanti di 3 reti, sul 27 a 30, però purtroppo è mancanza di lucidità, stanchezza e tanti altri fattori, troppi errori in attacco soprattutto, perché ci sono stati passaggi imprecisi, hanno permesso al Pressano di recuperare nuovamente lo strappo, di ricucire e poi il pareggio finale segnato da Dallago ha provato Bargelli, il pivot bianconero a tirare da fuori aria, però niente da fare, quindi un punto l'uno che fondamentalmente a livello di classifica non cambia assolutamente nulla. Ecco, ti blocco sulla questione classifica, perché se la regia mi aiuta ci guardiamo la classifica, così la commentiamo insieme. Eccola qua, quindi abbiamo Conversano in prima posizione a 45 punti, a 36 punti Sassari, Volsano a 34 punti, a 32 punti Fasano, Ego Handwall a 29 punti, come ci ha appena detto Teresa Scarcella a 28 punti Marano, 27 Pressano, a 26 punti Brixen e anche Cassano-Agnago, poi abbiamo Trieste a 21 punti, a 20 Albatro a 19 Eppan, poi abbiamo 5 alle 17, Molteno a 14, così come Fondi, quindi Molteno e Fondi chiudono la classifica. Esatto, sì, la classifica diciamo che parla chiaro e in realtà parlava chiaro anche da un bel po' di giornate, perché Conversano ha vinto l'oscurietto matematicamente la scorsa giornata, questa era la prima giornata, quindi con lo studietto già assegnato, quindi diciamo che tenendo meno l'obiettivo per tutte le altre squadre che inseguivano il Conversano, è ovvio che a livello psicologico questo ne risentano tantissimo le squadre. Per quanto riguarda Siena-Pressano, il pareggio di Vieri cambia poco, rimangono qui in quinta settima e settima in classifica e credo che la chiuderanno il campionato in quelle posizioni, invece diciamo Amaro per Molteno e Fondi che come puoi vedere essendo le ultime in classifica sono già retrocesse matematicamente pur mancando altre due partite alla fine della stagione. Grazie, grazie Teresa Scarcella per essere stata in collegamento con noi, grazie mille e con la Ego Handwall chiudiamo questa trasmissione di domenica sport sera, l'appuntamento è domenica prossima alle 20, grazie per averci seguito.